Sanità nel caos, il Gemelli Molise potrebbe sospendere le prestazioni a danno degli utenti e dei dipendenti, 470 in totale. Il presidente Stefano Petracca, in un'accorata quanto chiara lettera indirizzata ai sindacati, ha annunciato che se non dovesse intervenire una rapida soluzione rispetto alla crisi economica che sta caratterizzando l'ospedale Campobassano, sarà costretto a non pagare gli stipendi e, si legge testualmente, a interrompere l'erogazione delle prestazioni sanitarie con conseguenze che potranno essere irreparabili per il diritto alla salute degli utenti e il mantenimento dei necessari livelli essenziali di assistenza. A pagarne le conseguenze, come afferma lo stesso Petracca, i pazienti molisani, ma non solo, in particolare quelli oncologici che nel Gemelli da anni ormai trovano un portosicuro, essendo l'unica struttura che eroga la radioterapia in Molise e anche per coloro che necessitano di interventi e cure di ambito cardiochirurgico. E così le ipotesi che il manager aveva paventato nell'arco delle scorse settimane, fino alle ultime ore dopo l'inasprimento ulteriore della guerra in atto col commissario alla sanità Donato Toma, potrebbero diventare amaramente realtà. All'attivo mancano ben 17 milioni. Sebbene Gemelli abbia sempre assicurato e tuttora assicura al sistema sanitario i livelli essenziali di assistenza, si legge ancora nella lettera di Petracca, sia in favore di pazienti regionali che extra-regionali, la regione Molise non ha ancora provveduto a corrispondere al nosocomio i relativi pagamenti, non solo per il 2022, ma anche per le annualità precedenti, purtroppo risalenti all'ontano 2019, per un totale di circa 17 milioni di euro, di cui 8,3 milioni di fatture emesse, scadute non contestate. Una somma, quest'ultima, resa nota dall'avvocato Fabio Verile, proprio negli studi di Teleregione, che aveva indotto il legale a chiedere il motivo dei mancati pagamenti a Toma. Un'escalation di difficoltà, iniziata quattro anni fa per Gemelli, e ora al culmine, prima con la mancata intesa relativamente al budget, e poi lo stop proprio alla radioterapia stabilito dal commissario, ancora ai ricorsi al TAR, il monito dei giudici a trovare un'intesa col commissario, e ora il no ai ricettari. Il Gemelli, nonostante le parole perentorie del Presidente, al momento non ha intenzione di ridurre il personale, e ha chiarito che continuerà a garantire prestazioni urgenti e salvavita. Nel contempo ha chiesto un tavolo urgente alla Prefettura e alla dottoressa Lattarulo. Si sono rivolti gli stessi sindacati, che hanno indetto lo stato d'agitazione.